questa volta la voce ce l'ho ragazzi dunque allora salve a tutti dico salve perché non so in che parte del giorno guardate il video se di mattina pomeriggio sera va bene qualunque ora non vi preoccupate allora ho ricominciato a mettere gli episodi di destinati ho messo solamente il 4 adesso il 5 uscirà questa domenica molto probabilmente se ce la faccio anche prima quindi tenetevi pronti e ho visto che il video comunque è piaciuto si duncan è molto molto cattivo ma lo capirete presto perché ha fatto quello che ha fatto nel frattempo vi è venuto in mente qualcosa perché l'avrebbe fatto la risposta lasciatemela qua sotto se ce l'avete però non vi risponderò perché altrimenti faccio lo spoiler e dopo questa cosa non va bene dunque sono un po' lenta a caricare i video e a parte la serie non ho caricato altro perché in questo periodo i miei professori mi stanno riempiendo di verifiche e interrogazioni e in teoria il secondo quadrimestre avrebbe l'inizio dovrebbe essere calmo tranquillo ma no per noi ovviamente non succederà niente in questo cosa ti aspetti sei al quinto anno vuoi che non ti massacrino ogni giorno che passa anche ricordandovi dell'esame eccetera eccetera ovviamente va bene però lasciando i miei programmi personali e tutto il resto siccome non so se riuscirò a caricare i video di destinati continuamente insomma diciamo uno dopo l'altro ma una settimana e cose così se nel frattempo volete leggervi la serie io vi lascio il link qua sotto nella descrizione e di fp dove l'ho scritto che tra l'altro io lo scrivo quest'estate l'ho scritta quest'estate questi disegnati su fp e mi piaceva tantissimo anche perché scritta su word è tutta un'altra storia fare i video è molto difficile dalla storia e dunque guardatevi volevo dire ah sì che praticamente non carico più altri video così tipo i video divertenti e tutorial ti cercherò di prenderli anche perché non ne sto trovando più tanto non ne sto trovando più altri forse sono io che non mi impegno e forse avete ragione se volete uccidermi quindi adesso però beh il più presto possibile spero dovrei caricare un video forse verso fine febbraio ma non ne sono sicura perché sennò vi do le delusioni e non voglio dovrei fare un video dove metto una parte per ogni episodio divertente per ogni episodio dei tutorial mi sono impiacciata non vi dico altro perché vi farei uno spoiler incredibile e basta cos'altro vi devo dire che vi voglio tanto bene abbiamo raggiunto i 60 iscritti sono molto felice il 66 guardatemi e niente io spero di sentirvi i commenti i messaggi personali quello che volete spero che gli iscritti aumenteranno di volta in volta tanto il canale deve crescere piano piano quindi non miamento e dunque se avete sempre qualche domanda su di me i miei interessi quello che vi pare la potete lasciare nei commenti qui sotto io non ho da dirvi altro qui è maestro 96 baci a tutti bazinga grazie a tutti